Salve a tutti sono Zomevest e sono qui in questo video per mostrarvi la nuovissima arma bomba a tempo ottenibile nella cassa questo qui non è una vera propria arma ma un piccolo equipaggiamento ottenibile in Baried tramite questa bomba a tempo potremmo appunto estrarre questo oggetto lanciarla, posizionarla su un muro, comparirà quindi in basso a sinistra sotto i perchi il round a cui ci troviamo attualmente e in qualunque momento tramite l'apposito telecomando tornare indietro nel tempo torneremo quindi a quel round, a quel determinato momento con quei determinati perk, con quelle determinate armi con quel determinato paesaggio nel determinato luogo dove lo avremo lasciato quindi questo può essere molto utile nel caso appunto vi atterrino e voi volete riottenere i perk perché siete in una situazione critica senza punti eccetera ovviamente va tenuto conto che tornate anche indietro con i round quindi dei salti troppo grandi 3 round potrebbero insomma non essere molto convenienti le bombe vengono ricaricate in compenso ogni volta che si prende il perk, le bonus scusate munizioni massime spero che questo video vi possa essere tornato utile in questo caso lasciate un piccolo mi piace e niente quindi è tutto, bye bye